Finneblex nasce nel 2007, un'azienda informatica e nasce al parco scientifico tecnologico Luigi Danieri, dove oggi c'è la sua sede operativa. Noi siamo un'azienda che fondamentalmente progetta, realizza e mantiene architetture informatiche, caratterizzandole però con un'alta incidenza di resilienza, ovvero sia architetture capaci di resistere a malfunzionamenti, disfunzioni o indisponibilità. Quindi ci occupiamo di business continuiti e di disaster recovery. Finneblex si caratterizza per una capacità di assistenza al cliente ad ampio spettro. Ci occupiamo di tutte le parti dell'infrastruttura, i server, i storage, il networking e lo facciamo con un orario esteso di 11 ore consecutive al giorno, 7 giorni su 7. Questo grazie a un pool di professionisti, di 7 sistemisti e grazie anche alla capacità che abbiamo di intervento rapido. Risolviamo gran parte degli interventi entro la giornata in cui vengono richiesti. Ma ci occupiamo anche delle nuove tendenze tecnologiche, ad esempio forniamo servizi in cloud e tra questi il disaster recovery, effettuiamo soluzioni di disaster recovery in cloud, ma anche antivirus e anche altri tipi di commodity. Lavoriamo per 350 giorni all'anno e la nostra azienda ha investito in ricerca e sviluppo. L'11% delle ore lavorate dal nostro staff tecnico sono dedicate alla ricerca e sviluppo. Ben 4 sono stati i casi di disaster recovery sul quale siamo intervenuti nell'ultimo anno e che abbiamo risolto il giorno successivo all'attivazione. Finneblex storicamente è un'azienda di system integrators e nel passato abbiamo sviluppato le nostre soluzioni in modalità multi brand, ovvero sia non ci siamo legati a una specifica marca ma abbiamo utilizzato strumenti e soluzioni di vari brand. Anzi, nella nostra storia ci siamo anche dilettati, oserei dire, a costruirci noi stessi le nostre soluzioni, sia dal punto di vista hardware che dal punto di vista software. Un anno e mezzo fa circa abbiamo deciso che la nostra professionalità poteva trovare concretezza soltanto appoggiandoci a un brand stabile, un brand sicuro e a fornitori di servizi e di strumenti necessari alle nostre progettazioni. Abbiamo così scelto QNAP, azienda dinamica, azienda giovane che aveva nel proprio catalogo prodotti enterprise utili e funzionali alla progettazione che noi facciamo per i nostri clienti. Abbiamo trovato in QNAP un partner affidabile, reattivo, dinamico, capace di seguirci nella nostra crescita e capace di rispondere in tempi rapidi alle nostre esigenze. Katas è un cliente storico di questo territorio, nasce nel triangolo della sedia ed è leader nel test e la certifica dei materiali, in particolare nel legno arredo. Per noi ha rappresentato una sfida poiché la sua architettura informatica era molto eterogenea e comunque mancava di alcune componenti essenziali, quelle della sicurezza. Strumenti diversi, computer diversi, server diversi, che necessitava di essere messi in sicurezza. Abbiamo sviluppato per Katas un progetto architetturale importante che ha trovato immediata corrispondenza e adesione al cliente stesso e lo abbiamo realizzato l'anno scorso. I pc collegati alle nostre attrezzature di laboratorio contengono anni e anni di risultati di test sui prodotti dei nostri clienti e fanno parte del nostro bagaglio di esperienze. Prima del progetto affrontato con Filide Blanks non avevamo un sistema omogeneo, uniforme, che ci permettesse di salvaguardare i nostri dati da un guasto informatico. Quindi abbiamo deciso di fermarci, analizzare la situazione e intraprendere un nuovo progetto. Insieme a Filide Blanks abbiamo effettuato un'analisi di mercato, abbiamo scelto il modello QNAP. Tale scelta è stata dettata dal fatto che avevamo necessità di un prodotto ampiamente scalabile, con capacità di virtualizzazione e facilmente ridondabile. La soluzione scelta ha portato numerosi vantaggi. Da un lato siamo riusciti ad implementare standard di sicurezza più severi ed abbiamo aumentato la nostra business continuity. Ma il vantaggio più grande l'abbiamo sperimentato sul lato del disaster recovery. Infatti a dicembre 2016 abbiamo subito un incendio che ha distrutto totalmente il nostro stabilimento. Anche grazie a un sistema come questo siamo riusciti a ripristinare tutti i nostri sistemi quel giorno d'ora. Siamo orgogliosi di dire che a risprenza di pochi mesi Cata si è riuscita non solo a ripristinare la propria operatività ma addirittura ad aumentarla. Filide Blanks sono i nostri consulenti in ambito infrastrutturale soprattutto per quanto riguarda la business continuity e la disaster recovery. Ci hanno aiutato ad analizzare le problematiche e l'approccio. Dopo insieme abbiamo steso un progetto e l'abbiamo realizzato. Inoltre ci sono stati molto vicini dopo l'incendio e i mesi direttamente successivi. Grazie a tutti.